Sono molto contento e soprattutto per dare continuità anche l'anno scorso, ormai è qualche anno che faccio parte di questa società e quindi ci tenevo a continuare questo percorso. Obiettivi per quest'anno è riprendere da dove abbiamo finito, quindi da quella gara 3 con Piacenza e quindi fare disputare un campionato di un certo livello, anche se sappiamo che la concorrenza sarà importante perché le squadre che avremo nel girone sono squadre che si stanno attrezzando molto bene, invece a livello personale vorrei avere un po' di continuità sperando che quest'anno vada tutto liscio per continuare dopo quel brutto infortunio di quest'anno. Io sono molto attaccato alla mia città e sono orgoglioso di essere nato a Brescia, di essere bresciano e quindi rappresentare in giro per l'Italia Brescia è un onore per me.